AstraZeneca ritira il vaccino, la notizia scodellata in prima pagina di oggi sulla verità. Lo avevamo promesso e siamo qua. Terremo alta la guardia su questo tema. Solo pochi giorni fa parlavamo del fatto che la stessa AstraZeneca avesse amesso in un tribunale di Londra il fatto che il vaccino anti-Covid dal loro prodotto poteva provocare sindrome da trombosi. Una cosa, secondo noi, gravissima che merita molta attenzione. Oggi il colpo di scena è in gran segreto. AstraZeneca avrebbe chiesto a Lema di non commercializzare più il proprio vaccino. E quindi qui i dubbi salgono, aumentano, le domande sono sempre di più. Ma ci chiediamo, le nostre istituzioni cosa fanno e cosa dicono su un tema così delicato? Dovrebbero prendere una posizione. D'altronde molti concittadini sono stati obbligati, letteralmente obbligati, dalle norme per poter lavorare. Attenzione, perché senza Green Pass, che derivava dalla vaccinazione, non si poteva lavorare in questo paese. Sono stati obbligati a vaccinarsi. E oltretutto, per vaccinarsi, dovevano firmare obbligatoriamente, se no non potevano vaccinarsi e quindi non potevano lavorare, una liberatoria. Crediamo che alla luce dei fatti, anche della notizia del giorno, scodellata in prima pagina della verità, sia importantissimo che le istituzioni italiane dicano qualche cosa. Perché ovviamente i dubbi, lo ripeto, aumentano e la situazione non può che peggiorare. Voi cosa ne pensate? Dite la vostra, che io, come al solito, ho detto la mia. Postcrittum, continueremo a vigilare su questa questione, a tenervi aggiornati, perché, come dicevamo nell'ultimo video, che tra l'altro posterò in descrizione, la situazione deve venire. Ogni giorno ci sono fatti e dati sconcertanti da analizzare e da commentare. Dite la vostra.